La storia che sto per raccontare è incredibile, scovata tra le carte di un processo dell'anno 1317. Una storia che narra di intrighi, di complotti, di stregoneria e del grottesco tentativo di uccidere un papa tramite un rituale magico. Il protagonista di questa storia però non è un criminale qualsiasi, bensì un vescovo, nonché esperto di negromanzia. Nel 1316 il vescovo francese Hugues Giraud fu accusato di appropriazione indebita e nello specifico appropriazione di benefici ecclesiastici, di tirannia, di simonia e cattivi costumi. Si parla quindi di appropriazione di rendite, possedimenti e altro patrimonio appartenente al dominio episcopale francese, insomma si parla di soldi. Il papa stesso, Giovanni XXII, sospettava fortemente che questo vescovo impenitente derubasse la chiesa, per tornaconto personale ovviamente. I sospetti erano ben fondati, tuttavia il vescovo si trovava in una botte di ferro, o almeno credeva ad esserlo, poiché aveva imposto il silenzio a tutti coloro che erano stati coinvolti nei suoi affari, tramite un giuramento dichiarato con la formula Sit nomen domini benedictum, sia benedetto il nome del Signore. Un giuramento pronunciato al cospetto del Signore Dio e che non poteva essere sciolto per nulla al mondo, neppure sotto interrogatorio, neppure in un processo. Nel novembre del 1316 però, il papa emanò una bolla per sciogliere da eventuali giuramenti solenni, anche quei giuramenti che erano stati prestati al cospetto del Signore e Dio, per fini interrogatori, ovvero per poter partecipare a un processo. Improvvisamente, tutti coloro che erano stati coinvolti nei traffici del vescovo impenitente furono liberati dal giuramento solenne e potevano quindi testimoniare contro di lui. Le difese del vescovo caddero, le difese religiose, e dunque il rischio di finire sotto processo e di essere accusato e condannato per furto ai danni della Chiesa, divenne altissimo. Fu probabilmente a quel punto che Giraud cedette alla tentazione. Per paura di perdere tutto, lasciò che i pensieri diabolici gli entrassero nella testa. Papa Giovanni XXII era vecchio, tutti lo sapevano, e se anche fosse morto, in maniera improvvisa, nessuno ci avrebbe badato più di tanto. Qual è lo strumento migliore in questi casi? Quello da sempre utilizzato nella storia umana? Il veleno, naturalmente. Però Giraud è un uomo del suo tempo, istruito, che conosce la dottrina e tutti gli anfratti più oscuri della spiritualità, dalla demonologia alla negromanzia, e dunque decide di affiancare allo strumento del veleno un vero e proprio rituale magico. Quindi comincia a pianificare il suo assassino basandosi sulla magia nera. Questo rituale, un vero e proprio incantesimo mortale, consisteva nel realizzare un effigie, ovvero una statuina di cera a somiglianza della persona odiata, da benedire e addirittura da battezzare, per poi pugnalarla. A quel punto la vittima avrebbe sofferto nelle stesse parti del corpo coinvolte, una tipologia magica oggigiorno attribuita più che altro alla tradizione esoterica africana e al voodoo, ma in realtà era già presente in Occidente, fin dall'antichità. Si tratta infatti di una stregoneria di cui parlava già Ovidio quando descriveva, ad esempio, i poteri di Medea. Plasma effigi di cera e nel povero cuore conficca aghi sottili e tante altre stregonerie che sarebbe meglio non sapere. Una stregoneria a cui molti credevano fermamente, compresi gli stessi uomini di chiesa, compreso il Papa. Nel novembre dell'anno 1316, poco dopo la proclamazione della bolla che il Papa aveva emesso proprio per incastrare il Vescovo, Gérot decise di mettere in atto il suo piano per uccidere magicamente il Papa. Si avvalse della collaborazione di un suo uomo fidato per reperire gli ingredienti magici, e di molti altri uomini, alcuni potenti. Vi erano addirittura dei cardinali, dei vescovi, dei visconti, tutti uomini accomunati dall'odio per questo Papa e che credevano che il rituale lo avrebbe potuto uccidere per davvero. Prima di compiere questo rito così dispendioso, così costoso, Gérot decise di testare, di imparare questa formula e tutti i vari passaggi necessari allo svolgimento del rito stesso con un'altra vittima. Lo sventurato che intendeva bersagliare con questa magia mortale era il nipote dello stesso Papa, un cardinale, Jacques de Vie. Un ebreo di Tolosa realizzò questa effigie di cera a immagine e somiglianza del cardinale e un venerdì di notte, assieme al vescovo Gérot e ai suoi aiutanti, benedissero la statuina, la battezzarono con l'acqua e il santo crisma e poi lessero da un libro che l'ebreo portava con sé, scritto in latino, antico greco ed ebraico, delle formule magiche e religiose che poi venivano sussurrate nell'orecchio del vescovo e che lui ripeteva a sua volta. A quel punto poteva iniziare il rito vero e proprio. L'incantesimo consisteva nel pugnalare l'effigie e attendere che si verificasse l'effetto sulla vittima. Se l'effetto non si fosse verificato entro una settimana, il rito doveva essere ripetuto dopo la luna nuova, pugnalando di nuovo il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Gérot quindi affondò la lama prima alla gamba, poi allo stomaco e il suo complice, infine, pugnalò l'effigie ai fianchi. Per tre volte effettuarono il rito, utilizzando dei lunghi stiletti dalla punta d'argento acuminata. Le parole che dovevano pronunciare, suggerite dall'ebreo, erano le seguenti. Così, il cardinale di Avignone è ferito nel corpo, Finché non ci dà la pace col papa, altrimenti muore. Assieme a questa formula, i due assassini magici pronunciarono anche il salmo 108 o 109, detto anche salmo di Davide, salmo delle venti imprecazioni, e per concludere con il nome più evocativo di tutti, la preghiera della morte. Si tratta di un salmo vero e proprio, presente nel racconto biblico, che tuttavia è stato utilizzato nella storia esoterica medievale rinascimentale più e più volte per compiere riti di magia nera, e quindi compare anche in questa storia. Nel frattempo, i preparativi per l'omicidio vero e proprio, quello del papa, andavano avanti, e il vescovo Géraud raccoglieva tutti gli ingredienti che gli servivano, circondandosi di persone sempre più numerose, sempre più potenti, che lo aiutavano nell'impresa. A quel punto decisero di non limitarsi a uccidere solo il papa, ma anche altri due cardinali ritenuti molto, molto fastidiosi, uno dei quali era Bertrando del Poggetto, che più tardi sarebbe divenuto legato a Pontificio, nonché condottiero Pontificio, che sarebbe disceso in Italia per sterminare i ribelli, i ghibellini, dando inizio a una serie di campagne militari, fra cui vi era quella che diede luogo alla Battaglia della Merda, che ho già raccontato in una precedente leggenda affilata. Le statuine di Cera, quindi, le effigi, erano tre, ed erano scolpite per rappresentare al meglio coloro che erano bersagli di questo incantesimo mortale. La statuina del papa, ad esempio, aveva indosso le vesti sacerdotali per celebrare la messa, mentre le altre due statuine, dei rispettivi cardinali, avevano in testa un cappello, che poteva essere rimosso e messo come se fossero delle bambole. Questo rito di negromanzia, dunque, si divideva in due fasi, quella magica, relativa al pugnalare le effigi, e quella pratica, ovvero far trangugiare il veleno alla vittima. Entrambe le fasi, combinate assieme, avrebbero garantito il successo dell'impresa e la morte della vittima stessa. I veleni erano realizzati, ovviamente, con disgustosi ingredienti. Rospi, lucertole, code di topo, ragni, tutti che venivano bruciati sul fuoco, dando origine a un composto polverizzato da mescolare con l'arsenico, il fiele di maiale, l'argento vivo, e varie droghe che, assunte nelle giuste quantità, sarebbero state dei semplici medicinali, reperibili dallo speziale. Ma nell'interrogatorio processuale, lo speziale chiamato a testimoniare per aver venduto molti di questi ingredienti, disse ad aver aggiunto anche la pianta senna, la verbena, la salvia, la menta, la maggiorana, la bella donna, e della terra raccolta in un cimitero, delle lacrime d'incenso, piume d'oca, sale, e di aver nascosto tutto questo all'interno di scatole poste dentro ad altre scatole. I macabri ingredienti per la creazione di questo rito magico, che ricorda moltissimo i riti di magia che erano raccontati nelle opere antiche, come quelle che riguardavano le streghe di Tessaglia, non finiscono qui. Probabilmente questa storia tocca il punto più basso e disgustoso della storia esoterica medievale, poiché i complici del vescovo, per aggiungere quantitativamente altri oggetti disgustosi, si recarono un giorno sul luogo di un'impiccagione, salirono con una scala fino al cadavere che penzolava dal cappio, tagliarono della carne morta dalla gamba, dei pezzetti di unghia, delle ciocche di capelli, misero tutto in un sacco e tornarono al luogo di realizzazione dell'incantesimo. Ma non contenti, fermandosi per strada, notarono una carcassa di un cane, gli staccarono la coda e la misero in saccoccia. Non esisteva più una lista della spesa a questo punto. Tutto ciò che era disgustoso andava bene comunque. Radunata questa moltitudine di schifosissimi ingredienti, si rese necessario benedirli. Perché, come dico sempre, religione e magia sono due facce della stessa medaglia. E per quanto ci suoni strano a noi oggigiorno, nel Medioevo era normalissimo benedire un'impresa, per quanto macabra, malvagia, malefica, sopranaturale, per poter riuscire ad avere successo. Dunque, nella cattedrale di Tolosa, il vescovo di Tolosa, per ordine del vescovo Giraud, e di molti altri uomini di chiesa e cardinali, vi erano visconti, uomini di potere laico e religioso, imbastirono una messa. Una messa per benedire le tre statuine di cera che dovevano uccidere il papa e due cardinali. Stando alla cronaca del processo, vi partecipò un gran numero di persone a questa messa, che, per non rovinare tutto quanto, dovette essere spacciata per un battesimo. Quindi vennero anche nominate delle finte madrine. Poi, non contenti, li benedirono un'altra volta, questa volta in una cappella, da parte di un sacerdote, non importante quanto un vescovo, ma che diede anche la sua benedizione. Volevano essere certi, fino in fondo, che persino il Signore Dio fosse d'accordo con loro. A questo punto, tutto era pronto. Bisognava soltanto far entrare questi orrendi ingredienti ad Avignone, nella città dove risiedeva il papa, poiché siamo nei primi decenni del Trecento, nella cosiddetta cattività avignonese, come viene studiata a scuola, e quindi la sede del papa non è a Roma, ma in Francia, ad Avignone. E dunque, per fare entrare degli ingredienti che avrebbero di sicuro destato i sospetti delle guardie pontifice, addestrate a questo tipo di cose, era necessario escogitare un piano. Dunque, tutto quanto, statuine, code di cani morti, rospi e topi, tutto quanto polverizzato fu rinchiuso dentro delle pagnotte, realizzate con colla di farina, stoppa, all'interno di teli colorati, quindi svuotando la mollica, inserendo dentro le pagnotte tutti questi ingredienti, e portati così, di nascosto, come se fossero dei panini. Tutte queste precisissime descrizioni ci sono pervenute proprio grazie al processo al Vescovo Gérot, di cui vi sto raccontando i risvolti più interessanti, più avventurosi, poiché non è finita qui, adesso arriva il bello, è necessario portare questi panini imbottiti, magici, ad Avignone, e quindi scegliere dei corrieri adatti. Chi meglio dei disgraziati raccolti nei vicoli più malfamati di Tolosa per svolgere questa missione così delicata? Infatti, una notte, i complici del Vescovo Gérot si recarono, proprio dietro le locande più malfamate di Tolosa, a raccogliere tre disgraziati, quelli che, stando alle parole del processo, sembravano i più intraprendenti. Furono portati a una locanda, la locanda delle fanciulle, dove ricevettero da bere gratis, gli fu spiegato il piano, e tramite il pagamento di dieci soldi a testa e delle belle scarpe nuove, costoro accettarono l'incarico di portare quindi questi panini imbottiti ad Avignone e lasciare che il Papa fosse assassinato. Tuttavia, qualcosa andò storto. Forse le persone coinvolte in questo complotto magico erano un po' troppe, ci fu una fuga di notizie, lo zelo delle guardie pontifice riuscì a intercettare questi tre corrieri e non sappiamo bene come, ma recuperarono tutti questi ingredienti magici e il Papa, venuto a conoscenza della notizia, fece due più due. A questo punto volle scavare a fondo della faccenda, istituire una commissione per andare a processo e imprigionare tutti coloro che erano coinvolti. subito il nome del Vescovo Géraud saltò fuori ed è a questo punto che finalmente si giunse a processo. Un processo rapidissimo poiché il Vescovo Géraud confessò subito, senza neppure andare a tortura, senza neppure essere minacciato di tortura. La sentenza fu l'incarcerazione perpetua, ma a conclusione di una storia così incredibile non poteva mancare il colpo di scena. Quindi il caso volle che quel cardinale, Jacques de Vie, colui che fu un test per imparare a svolgere il rituale e di cui tutti si erano dimenticati, morì all'improvviso, proprio adesso. E tutti dettero la colpa al Vescovo e al suo rituale che fece all'inizio con quell'ebreo utilizzando gli stiletti dalla punta d'argento su quell'effigie di Cera. Venne subito imbastito un secondo processo, stavolta di natura inquisitoriale, ordinato dallo stesso pontefice che non era soddisfatto della conclusione del primo. Al termine di questo secondo processo, il Vescovo Géraud fu condotto nella piazza del Palazzo Vescovile di Avignone, il penultimo giorno del mese di agosto dell'anno 1317 e lì fu condannato a morte. Una tra le descrizioni della sua morte proviene niente meno che dagli scritti di Bernardo Gui, l'inquisitore più celebre della storia medievale. E così, alla fine, fu degradato e consegnato al tribunale secolare, il cui giudizio fu pubblicato e in qualche parte del suo corpo scorticato e umiliato e bruciato. Si conclude così, nel fuoco, la pazzesca storia del Vescovo Negromante Géraud. Molti suoi complici la fecero franca, soprattutto quelli di potere più elevato, ma non sappiamo come andò a finire per molti altri. Resta il fatto che la testimonianza di un processo così interessante tra statuine di cera, orri di ingredienti, rituali e corrieri con le scarpe nuove, non può che rimanere nel cuore di tutti noi. E sono davvero contento di poterla ripescare dalle nebbie del tempo per raccontarla. Anche nel mio ultimo romanzo, La stirpe delle ossa, compare un processo per eresia, per stregoneria, poiché nell'Italia del Trecento succedevano le stesse cose. E laddove la spada non arriva, forse può farlo la legge divina. Puoi trovare il romanzo in tutte le librerie e gli store online. E mi raccomando, seguimi perché la storia è piena di leggende affilate da raccontare. Ciao! Leggende affilate, gli episodi più avventurosi delle antiche cronache, narrati da Lorenzo Manara. Grazie! Grazie!